Buoni giorni, sono le 18.30 ora locale, 19.30 ora italiana, signori siamo arrivati a Dublino dopo tre ore di viaggio sulle ferrovie dello Stato, Pescara Bologna e dopo due ore e mezza circa di volo aereo con la linea, la compagnia di bandiera, eccoci qua, welcome to Dublin. Adesso siamo fermi al terminal bus, dobbiamo prendere il treno numero 748 che ci porterà nella zona di Houston Station, che non è la zona centrale di Dublino, dove permotteremo stanotte, questo è il 747 in arrivo, non è il 748. Valutare il perfetto irlandese che era la guida dell'autobus 747 è di origine coreana, si dispone. Ok, per il momento è tutto, più tardi vedremo di fare un altro collegamento, ciao!